buongiorno a tutti i miei amici di rossini tv ben ritrovati sul canale 80 un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando magari dai luoghi della loro vacanza e che ci stanno guardando tramite l'applicazione oppure attraverso la nostra diretta facebook oggi è martedì 25 giugno siamo in diretta ieri in tantissimi avete seguito il nostro telegiornale perché vi abbiamo parlato di tantissime cose e innanzitutto di questo omicidio che c'è stato a fano in via fanella proprio ieri due settantenni una coppia di coniugi è stata trovata massacrata in casa nel loro appartamento e si indaga sul figlio più tardi vi faremo vedere tra pochissimo anche il servizio esclusivo con le immagini che abbiamo fatto proprio sul posto in prossimità della casa dell'appartamento dove sono stati ritrovati questi due poveri anziani cadaveri intanto andiamo a vedere le previsioni per oggi oggi una giornata ancora nuvolosa nella prima parte della giornata nuvolosità alternati a schiarite poi nella seconda parte della giornata possibili piogge soprattutto negli orari serali della giornata e questo è il meteo appunto che è il riferimento di tutta la provincia di Pesaro Urbino vediamo anche la cartina infatti la mattina il pomeriggio e la sera vedete che la pioggia aumenta notevolmente anche domani ci aspetta una giornata di pioggia il sole sorto alle 5 26 minuti tramonterà le 20 e 52 ed ora ci colleghiamo con la webcam che è collegata a sud di Gabicci qui vedete ancora questo timido sole per qualche ora e quindi magari qualcuno potrà deliziare delle ore in spiaggia e per poi purtroppo come abbiamo detto insomma il tempo va a rovinarsi durante la giornata quindi comunque portatevi dietro un ombrello per sicurezza e allora io vorrei partire subito col servizio che abbiamo realizzato ieri proprio in prossimità del luogo di questo efferato delitto il nostro servizio di Daniele Sacchi Fano sotto shock per il ritrovamento senza vita dei coniugi Ricci avvenuto questa mattina marito e moglie pensionati vittime di un duplice omicidio all'interno della loro abitazione di via Fanella 127 Giuseppe Ricci 75 anni conosciuto ai più come Giorgio è stato trovato esanime con lesioni fatali alla testa procurate da un corpo contundente la moglie Luisa Marconi 70 anni è stata invece ritrovata con evidenti segni di soffocamento è stata presto esclusa l'ipotesi di omicidio suicidio il quadro che si è delineato agli inquirenti ha circoscritto le morti ad atti di violenza procurati da una terza persona soprattutto il corpo di Giuseppe Ricci mostrava indizi di una colluttazione con un aggressore a dare l'allarme questa mattina è stato il figlio della coppia Luca Ricci che allertato i vigili del fuoco per forzare alla porta dell'abitazione dei genitori che non rispondevano alle sue telefonate alle 7.30 di mattina l'ingresso in casa la macabra scoperta e l'allerta polizia e carabinieri intervenuti sul posto con scientifica squadra mobile di Pesaro e commissariato di Fano sul posto oltre ai dirigenti di polizia Paolo Badiogli e Stefano Seretti anche il capo della procura Maria Letizia Fucci che sta coordinando le indagini la casa è stata trovata a soccuadro ma non sembrano emersi segni di effrazione alla porta il figlio della coppia 50 anni separato e padre di due figli è residente al piano superiore della palazzina si è da subito dichiarato estrano ai fatti ma è stato sottoposto a interrogatorio a perquisizione domiciliare e al prelievo del dna il particolare che è emerso è che la casa in questione era stata venduta all'asta lo scorso settembre e che proprio oggi ci sarebbe dovuto essere un incontro col nuovo proprietario per per perfezionare la cessione dell'immobile si indaga su una presunta storia di debiti dello stesso figlio Luca alla base della vendita dell'appartamento e queste sono delle tragedie pazzesche tragedie familiari ma noi comunque questa sera vi daremo ulteriori informazioni nel nostro telegiornale a 19.30 in replica alle 20.30 intanto andiamo a vedere i quotidiani come hanno affrontato questa notizia il resto del carlino massacrati in casa sotto torchio il figlio luise giuseppe ricci trovati cadaveri la loro abitazione era stata già venduta all'asta per pagare i debiti di Luca 50 anni rinvenuto un martello forse l'arma del delitto coniugi uccise in casa in via fanella lei soffocata lui con la testa spaccata e poi invece il corriere adriatico dedica praticamente tre quarti di pagina proprio a quanto è successo coppia uccisa indagato il figlio duplice omicidio a fano il sospettato interrogato dal pm fino a notte trovato un martello nel pozzetto i debiti di Luca il villino di famiglia finito all'asta i familiari assurdo pensare che possa essere colpevole e poi i vicini erano due brave persone a febbraio avevano festeggiato pensate le nozze e d'oro e poi chiaramente tra le altre notizie riguardanti la giornata di ieri spostandoci a urbino dobbiamo andare a comunicare insomma la vittoria di Maurizio Gambini come sindaco di urbino al balottaggio quindi per la terza volta diventa sindaco il sindaco uscente vince il balottaggio col 53 per cento la lavorerò per unire scaramucci invece dice vicini al sogno e poi l'asilo del porto perde pezzi cadono parti di un cornicione poteva colpire i nostri figli le lamentere e le proteste delle male delle mamme anche noi ieri abbiamo parlato del caso della droga al miralfiore di questo ragazzo come sapete di 44 anni che è stato trovato morto per overdose e quindi si riaccende la luce su questo parco nel cuore di pesaro un parco che è praticamente il crocevia dello spaccio e allora ci sarà anche un incontro però intanto Andrea Biancani ha detto delle cose sui social che non sono state accettate dall'opposizione. Ieri e abbiamo anche noi le immagini esclusive ringraziamo il nostro telespettatore Stefano che ci ha mandato dei video e delle foto esclusive di questo surfista vedete che sfinito dalla corrente è stato soccorso a largo dalla capitaneria di porto surfista kite surfista perché aveva anche la vela e quindi si è trovato a un certo punto in balia delle onde a un certo punto non riusciva più a tornare e quindi è stato avvistato in prossimità di Bagnitino è stata subito allertata appunto la capitaneria e prima da un bagnino poi arriva la capitaneria il vento è calato e lui non riusciva a rientrare perché chiaramente il kite surf è uno sport in cui è importantissimo il vento se d'improvviso cala il vento e poi bisogna ritornare a nuoto perché non ha un motore questa tavola e quindi qui vedete le immagini che ci ha mandato il nostro telespettatore Stefano ringraziamo tantissimo e vi ricordiamo sempre il nostro numero delle segnalazioni sono preziose le vostre segnalazioni in tempo reale. Entriamo nelle pagine del Corriere Adriatico andiamo a vedere Marche in primo piano e vediamo come sono andati i ballottaggi insomma nei tre comuni marchigiani. Gambini, Pirani e Peppa eletti sindaci il centro-sinistra perde su tutta la linea l'unica vittoria scontata è stata quella di Pesaro al primo turno. Acquaroli un segnale forte che si somma a quello delle europee il neo-euro deputato Democrat Ricci dice c'è ancora molta strada da fare qui vedete un po' come sono andate le elezioni appunto in questi comuni che erano andati al ballottaggio e chiaramente tante pagine trovate oggi sui quotidiani dedicati a questa uccisione a questi poveri anziani che sono stati trovati senza vita in casa. Coppia uccisa e qui c'è scritto indagato il figlio e lo vedete qui questi sono i genitori e questo è il ragazzo Luca. Duplicio delitto a Fano le vittime sono Giuseppe Ricci e Luisa Marconi di 75 e 70 anni lui con la testa fracassata lei è stata trovata invece soffocata. Avevano perso la casa all'asta per pagare i debiti di Luca questo uomo di 45 anni lo vedete qui separato abbiamo detto con due figli è stato trovato un martello nel pozzetto è stato lui interrogato dal PM per circa 12 ore ma insomma vediamo quale quale sarà il verdetto entro la giornata di oggi si sapranno altre informazioni seguite i nostri social seguite il nostro telegiornale e le daremo queste informazioni intanto in questa via Fanella c'è stato un precedente 32 anni fa la strage di via Fanella l'orrore di quel dicembre 1992 sono passati quasi 32 anni da quella che la cronaca ribattezzò andando più sul pratico anche sul creativo la strage di via Fanella e che anche molti delitti dopo resta il fatto di sangue dalle dimensioni più tragiche e scioccanti un'intera famiglia sterminata dal vicino di casa che soffriva di turbe psichiche ma che deteneva una pistola un movente mai del tutto chiarito coagulatosi in un ambito passionale fatto di desideri non corrisposti un'indagine che venne in stradata violando per senso di giustizia il più segreto dei segreti quello del confessionale era la notte del 7 e l'8 dicembre 1992 il giorno dopo vennero trovati nel sangue Rose Eusebi di 48 anni il marito Ferdinando di 54 i due figli Ivani e Adolfo di 26 e 24 anni quattro corpi tutti crivellati da colpi di arma da fuoco quindi pensate proprio in questa via si ripete uno sterminio non simile a quello di 32 anni fa ma non grave come quello di 32 anni fa ma in questo caso insomma due persone sono morte e bisognerà capire chi è stato innanzitutto perché ancora non si può dire che è stato il figlio è stato solo interrogato bisogna capire chi è stato e soprattutto capire il movente l'abitazione va all'asta per sanare i suoi debiti Luca voleva lasciare il lavoro da operaio e aprire una bottega aveva chiesto un prestito di 60 mila euro dai genitori che avevano messo diciamo le firme erano garanti di questo prestito ma il sogno poi si è infranto le varie testimonianze dei vicini di casa che sono sotto shock mai sentito un litigio non abbiamo mai sentito urla grida a febbraio Giuseppe Luisa appunto abbiamo detto avevano festeggiato le nozze d'oro e il sindaco ieri Luca Serfilippi ha annunciato sui suoi social siamo sbigottiti non ci sono parole per quanto accaduto la coppia era una coppia tranquilla anche il figlio era una brava persona tutti parlano bene come spesso succedono poi insomma le verità nascoste sono a volte anche incredibili amici vi leggo scriveteci pure quindi insomma vi leggo poi dopo la regia mi segnala anche i messaggi insomma che riguardano le notizie che insomma stiamo leggendo come ad esempio Michela siamo alla follia non c'è più il lume della ragione ci si ammazza come fossero animali sarà sempre peggio ecco qui infatti effettivamente Michela hai ragione invece adesso cambiamo argomento sapete noi ragazzo morto per overdose al parco Miralfiore Andrea Biancani ha detto insomma che gli spacciatori devono essere reintegrati devono vanno integrati eccetera allora queste parole non sono piaciute a tanti esponenti del centro-destra il coordinatore provinciale di fratelli d'Italia Baiocchi attacchi al sindaco devono soltanto essere arrestati gli spacciatori non vanno integrati e quindi anche la Lega finiamola con questo buonismo la situazione grave al parco Miralfiore bisogna fare al più presto qualcosa e non solo compatire quello che sta accadendo e poi ci ritorneremo su questa notizia intanto la sosta selvaccia overbooking in Baia altri agli scooter l'area di Viale Varsavia la proposta di ferie a nome dell'associazione commercianti da oggi al via gli eventi estivi in realtà non è da oggi perché questo fine settimana anche Baia Flaminia ha visto l'arrivo di tantissimi giocatori per il Fimba e che questo campionato europeo di maxi basketball che ha portato e vede in città oltre 3.000 atleti che saranno per tutta la settimana a fare delle partite appunto per questo importante campionato quindi tantissime persone tanti che alloggiano appunto in Baia Flaminia però Baia Flaminia si prepara alla chiusura parziale della viabilità ogni martedì fino al 6 agosto per il ritorno di Baby Baia uno degli appuntamenti più attesi dell'estate che ogni anno richiama centinaia di famiglie un mix di eventi e animazione appunto per bambini e famiglie tanta gente, tanti arrivi ma i parcheggi solito problema non bastano i parcheggi pur ampi del campo di Marte quello dedicato ai caduti di Nassiria in via Belgrado il nodo della difficoltà nel trovare un posto libero intorno a Piazza Europa soprattutto le sere è evidente dice appunto questo residente Ferri che benissimo la gente, l'affluenza però è una zona veramente molto molto difficile in cui trovare il parcheggio parliamo di politica, salutiamo tutti i cittadini di Urbino se qualcuno vuole scriverci anche il suo pensiero anche di questo ballottaggio che c'è stato appunto ieri e che si è concluso con la conferma di Maurizio Gambini che con il 53,08% dei voti porta a casa il terzo mandato con sensi bulgari, Aschieti, Pieve di Cagna, Torre e Canavaccio Scaramucci si afferma invece nella sezione del centro storico e qui vedete appunto tutti i festeggiamenti di tutta la squadra del centrodestra appunto di Maurizio Gambini e poi anche le lacrime di Scaramucci ci abbiamo creduto, eravamo così vicini al sogno di cambiare che peccato l'amarezza di Scaramucci dopo l'esito ma questa città è comunque divisa noi lo ascolteremo anche Scaramucci insomma per quanto successo intanto Gambini pronti a continuare il lavoro è già avviato Gambini festeggia ma non gli basta e attacca i suoi versari sono stati divisi hanno istigato gli elettori contro di noi e poi a Fano invece si inizia a lavorare si inizia a mettere sul tavolo tutte le cose da fare per la città della fortuna oggi la prima riunione di giunta ricognizione dei lavori in corso il confronto tra gli assessori parte da Piazza Costa e Sassonia con Waterfront ex anfiteatro e Viale Battisti oggi in questa prima riunione di giunta non è affatto improbabile che a caratterizzarla sia anche un primo giro d'orizzonte sui cantieri diversi dossier spinosi ma la priorità andrà a quelli che stanno maggiormente interferendo con la stagione baldeare con la fruizione da parte dei cittadini turisti dei siti di grande interesse e poi terre roveresche meraviglia cielo aperto nelle quattro belle terre il programma di eventi estivi l'assessore Patregnani parla di teatro, musica e arte meraviglia cielo aperto sono ben 27 alle quali vanno aggiunti gli altri 50 appuntamenti della settimana dall'8 al 14 luglio che vedrà Capitale della Cultura teatro, musica, arte insomma tantissime cose che avverranno in questo territorio di terre roveresche qui sono elencate tutte sul sito del comune potrete leggere tutti gli appuntamenti per l'estate e poi per un linguaggio che valorizzi le differenze l'iniziativa della provincia per i comuni il prontuario in dono a tutto il personale Isola del Piano le parole creano la realtà buone prassi per un linguaggio che valorizzi le differenze quindi questo è un evento aperto a questo primo incontro è stato invitato il personale delle giunte dei consigli comunali di Acqualagna e di vari posti tanti comuni dell'entroterra proprio per utilizzare le parole giuste le parole sono veramente fondamentali prima di andare alle notizie dell'intrattenimento e dello sport andiamo a vedere quelle che ci propone oggi il resto del Carlino e allora la prima pagina l'abbiamo vista entriamo nelle prime pagine e anche qui chiaramente ampio spazio dedicato a questo duplice delitto le parole del sindaco giornata di dolore per la nostra comunità la tragedia è stata commentata ieri anche dal neosindaco di Fano Luca Serfilippi quanto accaduto questa mattina ci lascia sbigottiti coppia di coniugi massacrata in casa lei soffocata lui la testa spaccata regia se volete ancora rifar vedere ogni tanto le immagini fatele vedere insomma mentre leggo l'articolo duplice omicidio al poderino il figlio Luca interrogato per circa 12 ore ma fino a ieri sera non c'era il fermo ha trovato un martello nel pozzetto l'uomo pieno di debiti la casa dei genitori già venduta all'asta l'appartamento di circa 70 metri quadri era stato venduto subito per la cifra di 60 mila euro il 10% in meno del prezzo di perizia e la polizia ha ascoltato familiari parenti vicini di casa e per tutta la giornata di ieri nella bifamiliare di Via Fanella sono proseguite le indagini della scientifica non solo all'interno dell'abitazione ma anche nel piccolo giardino quell'intesa perfetta Luisa e Giuseppe due coniugi che veramente stavano insieme da 50 anni il figlio tutti dicono era un bravo ragazzo il ritratto della famiglia che abitava in questa villetta nel ricordo dei vicini lui spesso nell'orto lei stendeva i panni avevano festeggiato le nozze d'oro lo scorso febbraio e Luca non mi pareva depresso a loro era legato quindi è stato dare l'allarme poi tra l'altro il rinvenimento di questi due corpi è stato proprio il figlio Luca lanciare l'allarme ieri mattina chiamando i pompieri per entrare nell'appartamento dei genitori che abitavano al piano di sotto meglio quella casa al civico 127 di Via Fanella che ha anche un ingresso sul retro non ho idea di cosa sia successo prosegue Mirko un vicino di casa siamo cresciuti insieme usciamo ancora insieme un ragazzo bravo buono tranquillo assolutamente non violento insomma vediamo allora chi è stato quali saranno le rivelazioni che usciranno nelle prossime ore troppe tragedie su Via Fanella anche qui il resto del Carlino oggi fa un excursus di tutte quelle che sono state le tragedie in questa Via Fanese una specie di maledizione era infatti ecco appunto quello che abbiamo letto poco fa il 1992 quando Rosa Eusebi fu uccisa a casa sua insieme al marito e i due figli e poi Fernando Pucci geometra dentro 8 anni ex guardia zoofila e poi ancora sempre legato alla sfera del disagio psichico è stato l'omicidio di Rita Talamelli la 66enne con problemi mentali strangolata dal marito con un fulare il 20 novembre scorso questa ve la ricordate insomma è anche il caso di Rita quindi è una coincidenza chiaramente che riporta questi omicidi proprio in quella zona della città di Fano e anche qui vediamo vediamo intanto la foto di Dario Andreolli che è il consigliere della Lega e anche lui chiaramente ha commentato le parole del sindaco Biancani bufera sulle parole di Biancani spacciatori da reintegrani la solita ideologia buonista l'anzi per chi vende morte solo il carcere Baldelli la sinistra pesarese spose il modello Salis Baiocchi allebito Andreolli e Ghireti bisogna dichiarare guerra a 360 gradi contro i pusher e noi abbiamo intervistato ieri proprio Alessandro Giardini durante uno degli incontri al bar sociale di Utopia lui è un ex tossicodipendente adesso sta facendo tantissimo per cercare di convincere i giovani a non entrare neanche minimamente nel mondo della droga Giardini domenica prossima infatti al bar sociale Utopia domenica 30 giugno alle 17.30 terrà una conferenza e spiegherà come si è uscito dal tunnel della droga è il creatore della campagna Prevection un pugno alla droga che lo porta nelle scuole a raccontare la sua esperienza quindi l'appuntamento ripete domenica 30 giugno alle 17.30 al bar Utopia che si trova all'interno del parco Miralfiore segnalazioni sulle scuole del territorio in questo caso alcune mamme hanno notato che l'asilo Peter Pan del porto perde i pezzi cade il cornicione mamma nel panico poteva colpire i nostri bambini è stata transennata l'area del giardino Cristina che ha due figli erano parti di cemento lunghe fino a 20 cm caso già segnalato chiediamo più controlli per evitare altri incidenti e poi Mengaroni un'asta benefica 100 pezzi da non perdere l'iniziativa del liceo a margine di un convegno e allora stiamo parlando dell'evento che inizia alle 18.15 domani a Palazzo Montani Antaldi per una conversazione con lo storico Nando Cecini la storica dell'arte grazie Callegari e poi c'è un'asta appunto benefica e un'altra segnalazione di un'altra residente si chiama qui la vedete appunto rappresentata lei Michella Valli Mei e si lamenta il fatto che in questa zona di Pesaro e siamo in via Pastrengo sua madre con la carrozzina non riesce a uscire di strada di casa perché ha un marciapiede completamente pieno di buche la protesta di questa residente costretta a rischiare in strada quando esce con la madre in carrozzella hanno asfaltato solo un pezzetto e poi un altro pezzo l'hanno lasciato così e quindi lei non riesce a uscire prima delle elezioni vediamo spuntare un cartello che annunciava lavoro in corso per il rifacimento dei marciapiedi poi ci sono state le elezioni quindi sono stati i residenti tutti zitti perché hanno visto sicuramente verrà sistemato questo marciapiede ancora invece rimasto in questo stato e quindi chiede urgentemente di risistemarlo Francesca Parco Miralfiore facciamo squadra non facciamo una vetrina politica grazie Francesca chiaramente sì le parole a volte anzi quasi mai servono servono i fatti le azioni sul territorio e bisogna trovare il modo di porre fine allo spazio in quest'area perché c'è lo abbiamo verificato abbiamo visto le morti in faccia quest'area è da porre la tensione insomma bisogna cercare di capire non è facile perché è un parco gigantesco e quindi le azioni sono molto difficili ma sicuramente qualcosa verrà fatto sfinito dalla stanchezza il mare il mare bellissimo il mare che fa anche paura però come in questo caso bagnino e guardia costiera hanno soccorso questo kite surfista il kite surf è lo sport che prevede appunto la tavola insieme alla vela ed è necessario che ci sia il vento si era spinto troppo oltre probabilmente probabilmente ecco è calato a un certo punto il vento e lui chiaramente non avendo il supporto il traino della vela è dovuto ha cercato di arrivare alla riva nuotando ma era sfinito perché probabilmente era molto a largo per fortuna davanti ai bagnettino c'era insomma il bagnino ha notato ad accorgersi nel bagnino di salvataggio che ha preso la tavola da surf per raggiungerlo perché con il moscone era troppo pericoloso e si rischiava di ribaltarsi per le onde grosse racconta Roberto Federici il bagnino di salvataggio era una decina di minuti che lo stavo osservando da terra e vedevo che tutte le volte che tentava di portarsi a riva non ci riusciva anche perché la corrente in quel punto è anche molto forte e ti porta verso il mare aperto con il rischio fra l'altro di finire contro gli scogli Roberto Federici è lui che da riva lo ha visto poi ha chiamato chiaramente i soccorsi e lo hanno portato in salvo noi ringraziamo per queste immagini Stefano che ci ha mandato proprio a catturato lì sul momento si trovava proprio lì le immagini di questo salvataggio poteva andare anche a finire molto male per fortuna invece la prontezza di questo bagnino che ha visto subito delle difficoltà e anche le forze dell'ordine hanno portato in salvo il kite surfista intanto a proposito di mare a proposito di capitaneria ci sarà la cerimonia del passaggio di consegne e sarà giovedì cambio di vertici di Lucca va e arriva invece Gaudino Gaudino che passerà al capitano appunto capitano di fregata Nicola Gaudino che arriva da Rimini e sarà il nuovo capitano della capitaneria appunto pesarese c'è un film tutto l'universo e cercano comparse proprio a Pesaro sabato e domenica prossima i casting si terranno sabato dalle 9 alle 18.30 a Palazzo Mazzolari Salone Nobile in via Rossini e domenica dalle 14 alle 20 all'hotel Savoi e qui ci sono anche le figure richieste se volete partecipare insomma fatelo per questo casting per questo film che verrà girato proprio nella provincia di Pesaro e Urbino un bel ricordo di un'azienda insomma che è stata tra le più importanti del mobile del pesarese c'era una volta la febba al pesarese una storia di lavoro ed amicizia è stato fatto un raduno di 150 ex dipendenti della storica azienda di cucine tra bracci ricordi emozioni uniche Roberto Del Baldo dice la forza del gruppo erano le persone sono rimaste tutte eccezionali come allora e poi a Fano nomine adesso come sapete c'è il momento in cui si deve decidere così anche a Fesaro per alcune nomine di incarichi Mattioli Giacomo Mattioli verso ASET Brandoni dell'ASP che mi risola la fondazione teatro e poi vediamo che c'è una battaglia tra Davide Del Vecchio e Francesco e Cavalieri per la guida del consiglio comunale e poi andiamo ancora avanti nelle pagine del Carlino anche qui chiaramente la pagina che riguarda Urbino si parla delle elezioni Maurizio Gambini sindaco per la terza volta Scaramucci ha perso per oltre 500 voti è la quarta volta che nella storia del comune un primo cittadino tiene un terzo mandato i precedenti erano tutti di sinistra e poi vedete Scaramucci faremo un'opposizione costruttiva dura e ferma sul metodo a Urbania invece Annalisa Tannino è la politica più popolare il vice sindaco di Urbano è stata votata da più di un cittadino su dieci ho tanti progetti da portare avanti ora si lavora quindi complimenti a questa ragazza che è diventata appunto anche vice sindaco ed ora torniamo al Corriere Adriatico perché attenzione parte di Scodiva noi chiaramente ve la racconteremo in tv perché siamo sempre presenti all'evento di Gabice di Scodiva festa per il decennale quest'anno quindi una festa molto importante musica che fa ballare giorno e notte si parte venerdì con un cartellone d'eccezione e un focus sui locali che hanno fatto la storia della riviera noi saremo lì sabato sera con la nostra Roberta i biglietti costano 15 euro ma è possibile scegliere un pacchetto per le tre serate a 30 euro ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 16 anni www.discodiva.it per avere tutte le informazioni vediamo il messaggio di Vittorio dalla stazione al parco un commercio a cielo aperto sotto gli occhi di tutti da anni grazie Vittorio è proprio così questo è un fenomeno che purtroppo conosciamo da tantissimi anni e ancora non si è trovata una soluzione per risolverlo grazie mille Vittorio per il tuo commento le poche notizie dello sport ieri chiaramente adesso si guarda l'Italia in questi giorni quindi lo sport locale passa un po' più in sordina ieri sera sicuramente avrete visto la partita e intanto noi invece andando a parlare di Vispesa erano pronti nuovi club nel girone della Vis il parametro geografico dovrebbe portare Campobasso il legnango niente niente Juve Next Gen Atalanta o Milan U23 deciderà il sorteggio notizie di acquisti anche per casa WL Zanotti ha firmato che noi conosciamo bene insomma è stato qui qualche anno fa Simone Zanotti e invece c'è il pressing per avere Wildera che lo vedete qua sul lungo in uscita da Trieste nelle ultime ore c'è stato un forte interessamento di Brindisi e allora ringrazio tutti gli amici che ci hanno scritto che ci hanno commentato vi ricordiamo sempre di seguirci chiaramente sui nostri social e di rivedere anche tutti i nostri servizi sul sito e sulla nostra pagina Facebook noi adesso andiamo a vedere che cosa vi aspetta insomma per oggi intanto questa sera alle 21.20 vi faremo vedere l'evento estivo della compagnia delle opere Pesaro e Urbino si è parlato di cultura d'impresa ci sono state delle belle testimonianze un convegno pubblico in cui si è parlato di cultura territorio impresa e soprattutto è stato proiettato questo video dell'evento dove tra gli intervistati ci sono anche io mi è fatto molto piacere chiaramente raccontare la nascita di questa tv la genesi che io e Andrea Marcelli abbiamo creato quasi sette anni fa ormai e quindi un video sugli imprenditori del territorio vi consigliamo di vedere questo approfondimento questa sera alle 21.20 il nostro telegiornale come sempre per seguire vi daremo sicuramente informazioni sul delitto di via Fanella quindi seguiteci per queste e tante altre notizie e poi vi ricordiamo che mercoledì torna una nuova puntata di l'isola che non c'è siamo arrivati alla quarta puntata una terra tuttavia abbiamo fatto un bel documentario un bel viaggio raccontando Isola del Piano da tanti punti di vista sotto tante sfaccettature e quindi mercoledì alle 21.20 potrete vedere la nuova puntata grazie mille per averci seguito restate sempre con noi di Rossini TV e mi raccomando scaricate l'applicazione perché vi permette di vedere Rossini TV il nostro telegiornale la nostra rassegna stampa in qualsiasi parte del mondo quindi veramente è gratuita e molto comoda grazie mille e buona giornata a tutti voi grazie mille grazie mille